La prescinsole è uno dei formaggi più antichi che abbiamo qui nella nostra regione. Già nel 1400 gli artieri di Sotoripa parlavano di caci, prescinsole e marzolini, che sono i formaggi storici che commerciavano. Prescinsole vuol dire si caglie da sola perché il preso in Genovese è il caglio e quindi possiamo capire che veniva creata da una degradazione del latte nell'arco dei giorni perché ai tempi i frigoriferi chiaramente non esistevano. È un formaggio che, come può essere paragonato in alcune fasi della degustazione al vino, prende la forma del contenitore in cui viene inserito. Una piccola confusione, ovvero la prescinsola, che è un prodotto tipicamente del Levante, viene quasi sempre confuso, anche dai più esperti, con la giuncata, che è un prodotto savonese, ma la giuncata ha una forma perché viene messa a sgrondare sui giunchi, quindi ha la forma del giunco. E poi è un prodotto totalmente diverso. La giuncata è un prodotto che subisce una cagliata termica, quindi una cagliata fatta col calore. Non abbigliamo niente in comune con la prescinsola che è una cagliata acido-presamica. Grazie. 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 Grazie.